In un modo o nell'altro, vogliamo tutti fuggire. Quando la banalità della vita ci incatena, sentiamo il bisogno di evadere. Evadere dalla noia, dal dolore, dalla paura. Ma non io. La paura mi ricorda che sono vivo. Contrariamente agli altri, io non fuggo dalla vita. Io fuggo dalla morte. È il mio modo di guadagnarmi da vivere.